Ecco qua fuori, vediamo se è partito, è partito, è partito. Ecco qua siamo fuori dal concerto, per il concerto di Soundgarden c'è un ragazzo qui che sta facendo dei lavori. Guardate, guardate che lavori sta facendo. Da dove sei te? Escavi. Ah però, ho capito. Interessante perché Abruzzo è una regione sempre che mi ha piaciuto. Ho tutti gli amici da Abruzzo. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Qualcosa puoi dire? Speriamo che sia un bel concerto. Sì, speriamo che non arrivi il sole. Arriverà, arriverà, dai, non pioverà. Non pioverà. Guardate questo, Rich. Io e Chris in Milano, 5 anni fa. Ok. Sono un'esercizio. Penso che. grazie